I punti di repere sulla parete addominale, piano sagittale mediano, legamento inguinale, linea parallela all'arcata costale, che ci sono serviti per la dissezione prima superficiale, poi profonda, dopo aver tolto anche l'ipoderma, così marcatamente presente in questa regione, si giunge alla fascia profonda e la fascia profonda riveste poi le fasce dei muscoli in maniera significativa. Qui state osservando il muscolo obliquo esterno, nel punto in cui si riferisce al muscolo retto dell'addome, siamo a livello della linea semilunare, questo è l'ombelico, e qui dopo aver tolto tutta la cute e il sottocutaneo si osserva il complesso della aponeurosi che cinge i due retti dell'addome ed è costituita, come è noto, dall'obliquo esterno, dall'obliquo interno e dal trasverso. L'immagine del netter ci mostra i piani, la cute, il sottocutaneo, la guaina del muscolo retto dell'addome e poi in questo caso l'obliquo esterno. Il taglio può proseguire, come potete osservare, resecando l'obliquo esterno e evidenziando le fibre dell'obliquo interno, che hanno una direzione a 90 gradi, grosso modo rispetto a quelle dell'obliquo esterno, andando dal basso verso l'alto in senso medio-laterale, con eccezione delle fibre più basse che poi contorneranno il tragitto inguinale, formando il tendine congiunto. Questa dissezione superficiale dell'obliquo esterno è qui dimostrata, le mani del disettore stanno entrando attorno alle fibre del retto dell'addome, stanno aprendosi spazio e alla fine mostrano il retto dell'addome e le fibre dell'obliquo esterno resecate fino a mostrare il muscolo obliquo interno su un piano sottostante. Vedete l'ingrandimento delle manovre settorie precedenti, fatte quasi per tassello, in modo tale da poter lasciare adeso al retto, adesa all'aponeurosi del retto, per strati il muscolo trasverso dell'addome, che è il più profondo, il muscolo obliquo interno, che qui è discostato, e l'obliquo esterno attaccato invece ai tegumenti. La fascia trasversale si nota dopo aver resecato il muscolo trasverso dell'addome e al di là della fascia trasversale immaginiamo il peritoneo parietale della parete addominale anteriore. I muscoli addominali visti di lato, nello stesso dettaglio del taglio precedente, con il muscolo obliquo esterno dell'addome che qui mostra le sue fibre inferiori che proseguono nel legamento inguinale. Il legamento rotondo del fegato appare evidente quando la massa muscolare in toto viene sollevata, ed ecco il peritoneo parietale che appare lucido, mentre in profondità, in distanza, dovete immaginare i piedi del soggetto che escono dallo schermo e la testa è rivolta posteriormente. Qui state vedendo dal basso verso l'alto il legamento rotondo che è il residuo di quello che nella vita fetale è la vena ombelicale. Ecco un dettaglio del peritoneo parietale ribaltato mentre si apprezza il fegato e comincia ad apprezzarsi la matassa intestinale. In questa immagine la parete addominale è ribaltata dall'alto verso il basso. Parete addominale che qui rivediamo nelle sue strutture più significative, in particolare sul piano sagittale mediano il legamento falciforme del fegato con il legamento rotondo, nel suo rapporto con l'ombelico e poi il legamento ombelicale mediano con i due legamenti ombelicali laterali. Il legamento ombelicale mediano che collega l'apice della vescica all'ombelico è il residuo dell'uraco mentre i due legamenti laterali sono i residui delle arterie ombelicali. Tra vescica, legamento laterale, una fossetta sopravviscicale, al di là del legamento laterale una seconda fossetta intermedia e al di là della piega peridoneale che si ha sui vasi piegastrici inferiori una terza fossetta. Queste tre fossette, la mediale, la intermedia e la laterale, sono punti clinicamente importanti per le ernie oblique esterne, per le ernie dirette e per le ernie oblique interne. Particolarmente rilevante è lo studio topografico, oltre che sistematico, delle strutture vascolari sovramesocoliche. In particolare vi faccio notare la quasi complanarietà tra aorta addominale, che a questo livello si trova praticamente sul piano sagittale mediano davanti alla colonna, e la vena cava inferiore, che a questo livello si trova leggermente più a destra e posizionata più avanti ma non tanto avanti come si trova a destra e ancora più avanti l'ilo del fegato. All'ilo del fegato la vena porta a una posizione posteriore, l'arteria epatica comune al coledo con una posizione anteriore rispettivamente più a sinistra e più a destra. Risulta estremamente importante ricordare non soltanto la anatomia sistematica ma anche quella topografica nei rapporti dei grossi vasi che si trovano dietro il piccolo aumento e che fanno capolino una volta resecato il piccolo aumento per dimostrare i loro rapporti per piani. La aorta, che è quasi sul piano sagittale mediano, è complanare da un punto di vista frontale alla vena cava che le sta a destra e leggermente in avanti. Ancora più avanti e ancora più a destra i vasi dell'ilo epatico. Posteriormente a tutti c'è la vena porta, l'arteria epatica vi si appoggia sopra così come verso destra il coledoco. Sarà poi interessante sul cadavere cercare alcune, se non tutte queste strutture vedete il fegato, il legamento gastrocolico e lo stomaco, lo stomaco che viene separato dal pancreas e finalmente cominciano ad apparire dei vasi come la vena porta, l'arteria epatica comune, l'arteria gastrica di sinistra o in questa immagine con lo stomaco ben evidente l'arteria e la vena gastroepiploica di destra. Ancora serpiginosa l'arteria lienale in rapporto col pancreas fino all'ilo della milza e in questa immagine cui il fegato è alla sinistra della fotografia si apprezza il rapporto del fegato con la colecisti e poi sbuca l'arteria epatica propria, questo è il e il duodeno è ribaltato dalla mano dell'operatore. All'ilo epatico la vena porta eccola posteriore rispetto al coledoco, il rapporto che avevamo evidenziato precedentemente della vena porta, dell'arteria epatica e del coledoco. Ancora la vena porta dietro il pancreas con una porzione del fegato resecato per apprezzare le strutture dell'ilo ed ecco i vasi mesenterici superiori. Di particolare rilievo anche l'analisi topografica delle strutture vascolari che si riferiscono alla regione renale. In particolare a parte i rapporti reciproci tra orta e vena cava inferiore vi prego di ricordare, apprezzare in questa immagine lo scavalco che fa la mesenterica superiore nei confronti della vena renale di sinistra. Le due vene renali si trovano su un piano anteriore rispetto alle arterie renali e queste due insieme su un piano ancora anteriore rispetto alla pelvi renale. Queste strutture, arteria, vena e pelvi che costituiscono l'impalcatura dell'ilo renale devono essere resecate per poter asportare dalla sua sede il rene e poterlo analizzare con il taglio.